Oggi parto da qui, vediamo se il fagiano mi riconosce. Siamo fuori dal cancello apposta, adesso vediamo. Ah ma eccolo qui, ma ciao! Ehi, ciao! Che c'è? Ehi, piccolo, sali sopra, sali, 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 bravo! Ora non mi raccomando, bravo! Ma che bravo che sei, bravo! Dove sei? Eccoti qua! Avete visto che bello che è? Sei bello, sì! Ancora più prova che mi ascolta, avete visto? Adesso! Grazie.